Pulizia degli alvei dei torrenti e manutenzione dei loro argini per scongiurare eventuali sdraripamenti in aree rurali e urbane in caso di significativi volumi di acqua a seguito di importanti precipitazioni piovose. Pulizia di tommini, caditoie e cunette lungo le strade cittadine. Sensibilizzazione nei confronti dei proprietari di fondi agricoli, soprattutto di quelli insistenti in prossimità di zone urbane e di percorsi stradali, perché vengano eseguite tutte quelle attività di prevenzione per evitare allagamenti e fenomeni franosi che possono compromettere la sicurezza delle persone e la regolare circolazione di automezzi e ancora prevenzione degli incendi boschivi che rendono più fragile la consistenza del territorio e di conseguenza aumenta il rischio di esposizione a fenomeni franosi e alluvionali. Questi provvedimenti necessari da attuare che vengono ribaditi dal prefetto di Caltanissetta nella missiva indirizzata ai sindaci della provincia. Il prefetto Chiararmeni, infatti, ha inviato delle raccomandazioni operative per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni di frane e alluvione durante la stagione autunnale 2022, richiamando l'attenzione dei primi cittadini e del commissario straordinario del libero consorzio comunale di Caltanissetta, preannunciando anche l'inizione di una riunione per un esame congiunto della situazione in atto e delle eventuali criticità esistenti, si legge nella nota della prefettura, nonché delle iniziative intraprese e o buone pratiche che è intendimento attuare con tempestività. Si fa riferimento al cambiamento climatico ai sempre più frequenti fenomeni atmosferici avversi di particolare intensità. È stato rivolto dunque a tutte le amministrazioni locali l'invito a porre in essere, si legge, accanto agli interventi strutturali che tuttavia richiedono tempi di realizzazione lunghi, le attività primarie di prevenzione non strutturale espressamente contemplate dal Codice della Protezione Civile. E dunque si pensa alla pianificazione di protezione civile, allertamento del Servizio Nazionale, informazione alla popolazione e diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile. E ancora si ribadisce la necessità di recepire con immediatezza la messaggistica di allertamento, bollettini, avvisi di criticità, eccetera. Per la tempestiva attivazione, si legge ancora, delle misure di protezione civile e anche i fini della sorveglianza del territorio da parte dei presidi territoriali comunali, soprattutto consultando gli appositi siti del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Non viene tralasciato nemmeno l'aspetto dell'informazione da avviare nei confronti delle comunità locali, in merito ai comportamenti prudenti in caso di eventi meteorologici avversi.